L'11 giugno scorso Giovanni Monti, presidente di Lega Coppa, è stato eletto vicepresidente di Coppa Adriatica. Ieri mattina lo abbiamo incontrato nel suo ufficio in via Faentina e con lui abbiamo parlato di questo nuovo importante incarico. Il 2010 è ancora un anno dove la crisi incide pesantemente per tutti. La nostra tenuta, questa è la parola che abbiamo usato, è stata molto significativa e importante, sia dal punto di vista della redditività delle imprese, che ha comunque subito un calo, sia dal punto di vista sociale, l'occupazione che comunque regge sui livelli raggiunti negli ultimi 4-5 anni. Naturalmente abbiamo delle situazioni settoriali di difficoltà, più accentuate nell'ambito delle costruzioni, della movimentazione delle merci. In agricoltura ci sono stati segnali nel 2010 di difficoltà, poi con una qualche comunque ripresa, legata al mercato internazionale delle materie prime agroalimentari. Comunque possiamo dire che il 2010 ha rappresentato un anno in cui, oltre alla capacità di stare in un mercato che cambia, si è cominciato ad avviare anche una riprogettazione ulteriore delle nostre cooperative. Se i risultati raggiunti negli ultimi 3-4 anni sono stati eccellenti con un rafforzamento patrimoniale delle nostre imprese, se siamo riusciti a competere meglio anche di altre forme di imprese, lo diciamo con orgoglio, è perché negli ultimi 10 anni si era avuto la lungimiranza nelle cooperative, nei gruppi dirigenti, Lega Coppa ha messo la sua parte, ma soprattutto il merito va alle nostre baie sociali e ai nostri gruppi dirigenti. si era impostato un progetto di riorganizzazione che ha prodotto dei risultati. Oggi, con i cambiamenti in atto, i risultati raggiunti non sono mantenibili se non si cambia, se non si riprogetta profondamente la struttura imprenditoriale, le sue relazioni, le sue strategie con il mercato e con i bisogni della società. Da pochissimi giorni lei è anche diventato il vicepresidente di Coppa Adriatica, quindi le domande che le rivolgiamo sono queste. Innanzitutto, che cosa può apportare la sua presenza, la sua figura all'interno di una carica così importante all'interno di Coppa Adriatica? E poi, che cosa cambia nella sua giornata lavorativa, nel suo aggravio, tra virgolette, di attività? L'impegno in Coppa Adriatica è un grande impegno, nel senso che sicuramente in questi mesi la maggior parte del mio impegno operativo sarà dedicato a quel lavoro, a imparare quel lavoro e comunque a mettere a disposizione quello che ho imparato sempre con grande modestia in questi 30 anni di lavoro nel movimento cooperativo. Io credo che la Coppa Adriatica rappresenti per me un'esperienza importante, spero di dare qualcosa, sicuramente mi darà molto, è una realtà nella quale i consumatori fanno riferimento ad una struttura imprenditoriale che è ancorata ai territori, quindi una grande impresa che compete, la seconda impresa italiana nel settore del consumo in ambito cooperativo, una delle prime sicuramente in Italia e in Europa, però sempre ben ancorata ai bisogni dei propri associati e dei propri territori in cui opera dal Veneto fino a Bologna, la Romagna, tutta la Romagna, le Marche, l'Abruzzo, quindi un'entità molto significativa impegnata è se stessa in un progetto di verifica del suo posizionamento, già oggi molto significativa e importante, però insomma il mondo evolve, anche Coppa Adriatica sarà impegnata nei prossimi mesi e nei prossimi anni a verificare ulteriori integrazioni, ulteriori alleanze con le cooperative del distretto Adriatico e comunque dentro la rete di Coppa Italia. Quindi il mio impegno là sarà un impegno che naturalmente non farà mancare lo spazio per dedicare a Lega Copravenna il ruolo di rappresentanza e di definizione strategica degli obiettivi dell'organizzazione insieme con il nuovo direttore e con la nuova presidenza che vede impegnati anche personaggi molto significativi del nostro movimento cooperativo in un ruolo di direzione progettuale, insieme ai bravi funzionari che oggi dirigono i vari settori dell'organizzazione. Nel ruolo di vicepresidente di Coppa Adriatica mi tocca chiederle che cosa pensa della polemica che è nata intorno alla libreria che si vuole aprire all'interno del mercato coperto in stile ambasciatori a Bologna che ha coinvolto un pochettino i commercianti, il centro storico di Ravenna. Qual è la sua posizione? La mia posizione e la nostra posizione è una posizione molto chiara. Intanto non c'è stato nessun altro che si sia presentato con un interesse concreto al di là delle molte chiacchiere che ognuno fa per realizzare una struttura importante che qualifichi quell'importante, che è anche un monumento per la città di Ravenna oltre che un luogo di commerci. Noi Coppa Adriatica abbiamo intenzione di, intanto naturalmente le cose non sono ancora definitivamente chiuse perché c'è stato da parte del Comune naturalmente un'adesione al progetto, però sono in corso ancora i percorsi che riguardano conferenze di servizi e d'altro per la sostenizione definitiva. Per quello che ci riguarda è un progetto che più che dal punto di vista economico dove ci saranno naturalmente delle cose da fare per evitare di rimetterci dei soldi, lo facciamo per soprattutto valorizzare nel centro storico di Ravenna un'importante realtà come dicevo prima che è fatta di commerci ma che sempre più dovrà essere fatta anche di luogo di incontri, di socialità, per ravvivare anche nelle ore più difficili per Ravenna dove non c'è a volte neanche, a me i gatti sono molto simpatici, un gatto che gira per la strada cercando di mettere in campo quindi una nuova offerta sia dal punto di vista dell'incontro sia dal punto di vista della qualità, dello stare dentro un punto che vedrà commercianti presenti, occupare il proprio ruolo che hanno svolto in tanti anni in modo più qualificato ma anche con un'idea sulla quale si stanno precisando le cose che sta dando molto successo da altre parti della nostra regione, della nostra cooperativa, però su Ravenna sarà pensato anche un progetto specifico sul quale in modo orgoglioso vorremmo dedicarci. Noi non dimentichiamo mai che siamo una cooperativa e quindi oltre che offrire servizi di eccellenza vogliamo offrire servizi e prodotti anche alla parte più debole che ha meno reddito anche nel centro della città che ci troverà ancora una volta vicino a loro. All'interno di Lega Coppa è stato creato il ruolo di direttore, come mai questo cambio, la creazione di questo ruolo e quali saranno i compiti del nuovo e del primo direttore? Come dicevo prima, la Lega Coppa si è data in questi giorni, venerdì scorso, un nuovo assetto organizzativo, una nuova governance che porta ad avere un nuovo direttore che sarà il responsabile della gestione operativa dell'attività dell'organizzazione. Quindi a lui riferiranno tutti i responsabili dei settori che lavorano all'interno dell'organizzazione e tutta la parte operativa dei funzionari e dei dipendenti dell'organizzazione stessa. Abbiamo modificato questo tipo di governance, uno perché sono stato chiamato a fare delle altre cose e ovviamente uno non può fare tutto. A settembre faremo una verifica ulteriore di questa nostra governance nuova per verificare rispetto al mio impegno e rispetto al funzionamento la qualità dell'operare dell'organizzazione stessa. Credo che in questi anni, al pari di tante organizzazioni di rappresentanza, abbiamo comunque svolto la nostra parte e il nostro ruolo in questo territorio. Credo che con Solaroli Valeriano, che è il nuovo direttore, che è qua con noi dal 2003, prima aveva svolto importanti funzioni amministrative come sindaco di un comune del nostro territorio, Riolo Terme, e che ha avuto modo in questi anni di conoscere bene uomini, progetti e risorse e problemi che naturalmente ci sono in un'organizzazione, possa svolgere questo ruolo fino in fondo.